Su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord, la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale locale, nei confronti di 800 società relative a crediti collegati alle agevolazioni del programma SuperAce, per un valore complessivo di oltre 117 milioni di euro. Il programma SuperAce, introdotto nel 2011 per incentivare la patrimonializzazione delle piccole imprese italiane, è stato oggetto di revisione con il decreto sostegni BIS, ampliando i benefici e facilitando la cessione dei crediti a terzi. L'indagine ha focalizzato su crediti inferiori ai 150 mila euro, dove le certificazioni antiriciclaggio sono più rigide. Le indagini hanno rivelato che numerose imprese hanno fornito dati falsi all'Agenzia delle Entrate, simulando aumenti di capitale mai effettuati. Sono state identificate 800 posizioni irregolari di società, coinvolgendo 594 persone fisiche, molte delle quali residenti in campagna. Queste sono accusate di truffa aggravata per aver presentato informazioni ingannevoli per ottenere crediti fiscali ceduti successivamente sul mercato nero. L'azione tempestiva della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha bloccato una frode iniziale stimata in circa 117 milioni di euro, interrompendo la catena di cessioni fraudolente dei crediti. Anche i terzi cessionari sono stati coinvolti nel sequestro dei crediti per preservare l'integrità dell'agevolazione fiscale e prevenire abusi economico-criminali. Questa tipologia di frode ricorda quelle riscontrate nel settore delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, dove la Procura di Napoli Nord ha già operato con successo nel sequestrare crediti fittizi per 1,6 miliardi di euro dal 2022 in poi.